Un saluto a tutti gli amici campanari di Youtube, ci troviamo a Polignanammare e questo è il palazzo dell'orologio. Ora riprenderemo il segnale orario delle ore 5 e 45. Questa è la chiesa matrice di Santa Maria Assunta, con questo splendido campanile. E a presto da Lorenzo Campanaro 05. Grazie.